News su Bard, il controllo delle immagini è migliorato, quindi adesso se gli dai un'immagine dovrebbe essere più in grado di dire questa immagine è Giorgio che beve l'acqua, anzi no, le persone non le riconosce, cioè ti dice non lo posso fare, però questo è l'ufficio di Mr. Rip. Prima il livello di accuratezza era molto più basso. Sembra che la guerra sulle AI si sta trasportando, si sta trasponendo, si sta spostando dal testo all'immagine ultimamente, tutte sono migliorate tantissimo anche come qualità di immagine, di generazione di immagine, tipo MiGiorney, Dalli3, stanno tutte andando spinte verso l'immagine per qualche motivo. Forse perché è un utilizzo più concreto e più anche monetizzabile, cioè cominciano ad esserci, tipo, so, l'ultima campagna di crowdfunding Kickstarter di Terraformi in Mars a cui ho tanti peccati e tanti pleggi ho fatto. Si sono lamentati alcuni utenti che buona parte della arte sulle carte è fatta con MiGiorney, però a quanto pare funziona, i creatori hanno detto, oh, lo facciamo, si facciano un accordo. Forse migliorare la qualità artistica di generazione di dati è più facile da monetizzare, però mi sembra, non so, se tu percepisci che c'è un trend di, in questo momento, le energie stanno andando per migliorare la qualità del riconoscimento e produzione immagini. Forse il mondo delle immagini, il mondo grafico è quello dove si è trovata l'applicazione più pratica e immediata, cioè proprio sostituzione del lavoro uno a uno. Perché tu hai dei designer che spesso sono anche pagati bene, se sono bravi, però anche tanti designer che magari fanno lavoro basico e il lavoro che fai con un designer in realtà non è molto diverso da quello del prompt engineering, cioè tu gli devi dire, oh, voglio questa immagine, devi avere questo feeling, devi avere queste caratteristiche e creamela. Essendo art, diciamo, artistica, è meno probabile che spari una grande cazzata, no? Sì, anche, esatto, non deve essere precisa. Mentre ha Gbt, fai una domanda e può dire cazzate, l'arte è difficile. C'è un ultimo video che ha fatto Jumbo Drillo, tra l'altro, sul suo canale, che fa una specie di gara umano contro, cioè chiede a un suo amico di indovinare quale è stata fatta dall'umano, quale è stata fatta dall'AI e di giudicare anche quale è migliore. Spesso capire quale è umano e quale è AI è facile, però ha dato un prompt, ha pagato gente su Fiverr e poi ha chiesto all'AI e oggettivamente è una bella gara. Se io fossi un graphic designer che crea cose del genere, un po' mi cagherei sotto. Io quel video un po' l'ho spizzato, perché io anche ho fatto un video sponsorizzato da Fiverr, ho visto il titolo di quel video e ho detto, ok, questo è sponsorizzato da Fiverr. E secondo me lui ha preso un esempio pessimo in realtà per sponsorizzare Fiverr, perché... Irrilevante, la mio punto di vista è... ok, l'ado business sono curioso di capire la tua opinione. No, nel senso che io ho visto i disegni, quando lui pagava qualcuno poco, l'AI faceva un lavoro migliore, effettivamente, perché l'AI riusciva a darti un risultato ottimo e magari non ha il constraint del tempo. Cioè, un tizio che è col libro di Chiumbodrillo, il tizio che ti fa l'immagine per 5 dollari, non ci può spendere più di 5 minuti sopra. Però lui gli ultimi tier ha speso 200, 250. No, esatto. Gli ultimi tier non l'ho visto tutto il video, però... E anche i prompt crescevano in complessità e la qualità... A quello che ho preso 5... forse il più basso ho preso tipo 10 o 15. Il prompt era abbastanza banale, anche l'AI non è che ha fatto un grande lavoro. Soprattutto delle challenge molto tirate. Per quello, secondo me, dico, nel mondo del design, paradossalmente... Per esempio, nel mio video parlavo tanto anche dei data entry. Data entry mi fido ancora molto di più di un umano. Preferisco pagare qualcuno su Fiverr che non lasciare fare tutto all'AI, perché magari mi ritrovo con dati completamente sballati. E devo comunque fare double check. Se devo fare double check, a sto punto preferisco che lo faccia già qualcuno dall'inizio. Chiaro. Però sul design, quando si tratta di budget molto bassi, a sto punto l'AI, secondo me, fa un lavoro migliore. Perché ha uno stile comunque bello, particolare. E questa qui è divertente, quindi la faccio vedere. Ho un board game di carte. Aspetta. Che si chiama? Che si chiama? Che si chiama Turbo Populisti. Ah, sì. E sono 180.000 carte, è una roba incredibile. Turbo Populisti, che è un gioco di carte in cui ci sono i personaggi famosi, ci sta, che ne so, Parenzo, versanti politici, politici vari. Sembrano video. La parte grafica è fatta, è fatta con AI. Questo qui è Floris, però con nome finto. Quindi ha fatto, prendi Floris e mettilo qua. Non so, la Gabbianelli. Ecco qua. Tutte fatte con AI. Quindi costo di produzione è piuttosto basso. No, ecco sì, secondo me lì si è trovato veramente uno use case super chiaro e che funziona bene anche perché, come dici tu, trattandosi di una cosa anche abbastanza artistica, non serve essere precisi, effettivamente. E c'è tanto lavoro manuale che può essere sostituito in maniera relativamente facile. Un altro ambito è quello del video. Video, traduzione di video. Sul video come stiamo messi? Oggi le AI nei video cosa fa? Generare video non stiamo ancora a buon livello, no? Beh, dipende dal tipo di video, però sì, magari non livelli altissimi. Però ho visto tante soluzioni, per esempio per la traduzione di video e il doppiaggio real time, diciamo. Quindi i prodotti che ti permettono di fare doppiaggio di video in italiano, inglese, spagnolo. Sì, 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 quello è molto interessante. I'm unimpressed, direi. Nel senso che sì, ok, carino. Bello, va bene. Non stai generando chissà che, è una piccola... No, certo, però di nuovo sono lavori manuali che richiedono tanto tempo, però sembrano essere facilmente sostituibili, almeno ad un livello basso, lo teniamo sempre lì. Questi lavori creativi, sì, doppiaggio, chiamiamolo creativo, a un livello molto basso può essere rifatto meglio quasi da un AI a costo molto inferiore. Se vuoi le sfaccettature di più alto livello devi pagare un umano esperto che lo ha. Lo sappia fare bene. E se vuoi lo sappia fare bene.